Salve a tutti ragazzi, vi informo che ho riportato indietro la bici comprata al Declaton Perché l'ho riportata indietro? Non perché la bici non andava bene Anzi, vi dirò, è una bici veramente performante, provata sui 15 km per strada Sono rimasto veramente entusiasta di questa nuova bici Non pensavo che una bici in alluminio avesse queste sensazioni da regalarmi Allora, l'ho riportata indietro perché aveva l'effetto pedal overlap Che cos'è questo effetto? Praticamente è il piede che sbatte sulla ruota davanti ragazzi Allora, non ha niente a che vedere con la lunghezza, la grandezza della bici La bicicletta era perfetta per la mia statura Non mi piaceva questo effetto overlap Però, d'altronde, tutte le biciclette performanti moderne Hanno questo, diciamo, fra virgolette difetto Che non è un difetto ragazzi Anzi, rende la bici molto più corta Rendendo la bici molto più corta La bici è molto più performante Più performante perché è molto reattiva Quindi nello scattare molto più veloce E più performante in curva perché è più manovrabile E più performante in discesa perché la tieni più sotto controllo ragazzi Allora, ora con un disegnino vi faccio vedere che cosa significa overlap Usate il disegno brutto Comunque, per farvi capire questo overlap Che cosa significa Che da questo punto a questo punto È 99,8 Invece nella mia vecchia bici era 0,1,5 Questo quasi un centimetro e mezzo Parliamo Neanche, sì, un centimetro e mezzo Che cosa succede All'overlap significa che questa è la punta del pedale Questa è la fine della ruota Ha uno spazio Questo spazio qua è più stretto Perché la forcella, come vedete qua E posso essere più rilassata in questa maniera E più dritta Essendo più dritta la ruota viene più verso il telaio E si crea questo effetto qua Con il piede che sbatte sulla fine della ruota Allora, però che cosa ha di buono questa composizione? Allora, essendo il passo più stretto La bici è molto più manovrabile Soprattutto in curva e in discesa Quindi è una curva più performante Una velocità maggiore Perché ha più controllo Nello stesso tempo, dato che il ciclista Il peso del ciclista viene spostato vicino alla ruota La ruota davanti ha una frenata maggiore A più potenza E questi sono i punti più forti In questa bici il punto debole è il freno Che è messo qua sotto Vicino alla ruota ragazzi Allora, questo punto qua del freno messo qua La ruota frena molto molto di meno E quando è sul bagnato Frena quasi niente Ok ragazzi Ecco qual è la questione Overlock Allora, innanzitutto La bici e la ruota tocca il pedale Quando la bici ha un angolo di 45 gradi Quindi è quando state in mezzo al traffico Quando state correndo con la bici Questo non succede Poi è tutta questione d'abitudine Come i pedali sgancio rapido All'inizio ti senti impacciato Cati perché non li sai portare Poi dopo diventa tutta una questione d'abitudine La misura L Sempre di questa bicicletta qua È un po' più grande Però sta sempre nel range della mia altezza Quindi vorrei prendere una misura L In modo che questo overlap è meno accentuato Sempre la stessa bici Quella in alluminio L'Ultra 920 Che costa Perché ha il cambio Ultegra Invece di avere il 6.800 All'R8000 Quindi l'ultimo modello Costa 200 euro in più E là sto storcendo un po' il naso Perché non voglio spendere Questi 200 euro in più Allora per questo sto un attimo fermo Può essere pure che adesso siamo a novembre Il prossimo mese escono le nuove uscite Per il 2019 E cala di prezzo Se no l'ultimo me la comprerò Così spenderò quest'altri 200 euro in più Ma soltanto perché ha i componenti migliori Le ruote Ho visto sul forum della B-Twin Sono un po' leggermente più grandi Cioè nel senso hanno la stessa altezza 30 mm L'interno però invece di essere 17 Mi sa che è 22 Quindi è adatto più ai tubeless Perché la pressione si diminuisce Se il cerchione è più grande Poi questo ne parlerò quando Spiegherò la differenza tra il copertoncino I tubeless e i tubolari Ok ragazzi? Ritornando a noi alla bicicletta O comprerò questa bicicletta con la taglia un po' più grande Oppure ho visto un'altra bicicletta Sempre per la B-Twin Sempre in carbonio Che è un'offerta perché era la squadra Della B-Twin Racing Team E la sta usata Ma usata avranno fatto il test Usata 1.000-2.000 km di test Quindi è sempre una bici nuova E' una bici che costa 2.000 euro Me l'hanno già scontata Ma non mi è piaciuto il prezzo Vediamo Aspetterò se il prezzo mi piacerà E se ce la sarà ancora la compro Se no l'alternativa è questa in alluminio Perché vi ripeto ragazzi Io compro questa bici Perché soltanto con i pezzi Hai ripagato di tutto I pezzi costeranno fra 1.200-1.300 euro Questi qua Fra ruote, sella E tutto il gruppo Shimano Ultegra Questo è più o meno il prezzo Quindi la bici è praticamente gratis Poi più in là Quando avrò tempo Quando mia moglie non mi sgriderà più Per spendere troppe solde per la bici Magari mi comprerò un telaio in carbonio Performante Per quelli che dicono L'alluminio non va bene Per quelli che dicono Che le bici da Declaton Sono bici da supermercato Che così non è ragazzi Così non è La B-Twin fa ottime biciclette Solo che si porta indietro Un nome che praticamente Da tanto tempo Che fa bici da passeggio E quindi la gente Attribuisce il nome B-Twin Alla bici da passeggio Ecco cos'è la differenza Va bene ragazzi Spero che quest'altro video Vi ho detto tutto Mi raccomando Come al solito Iscrivetevi al mio canale È gratis Ciao E al prossimo video Ricordate che la sfida con Maurizio Se fa Maurizio La prossima sfida che facciamo Anzi la sfida che facciamo Io e te Ricordati che sarà con A-B-Twin Grazie a tutti